buongiorno a chi ci sta seguendo buongiorno a e buongiorno soprattutto a lì a Quartapelle la onorevole Quartapelle che è capogruppo alla commissione esteri della Camera per il Partito Democratico e buongiorno a Francesco Petrelli di Oxfam Italia il titolo di questa conversazione che stiamo cercando di imbastire è legata al fatto di ripensare il concetto di cooperazione all'indomani della pandemia noi ci troviamo di fronte a una situazione drammatica nel nostro paese i dati Istat ci dicono che la disoccupazione è arrivata allo stato più basso negli ultimi anni ma ci dice pure che è un dato ingannevole perché in realtà la disoccupazione risulta bassa perché la gente non cerca più lavoro intanto è vero che gli inattivi sono diventati hanno raggiunto livelli mai raggiunti prima c'è la produzione industriale che ristagna c'è un stato di pericolo di instabilità sociale e istituzionale che allarma tutti in tutto questo ci siamo noi diciamo in questo momento qui e diverse altre persone nel mondo della cooperazione che invece ragiona in un altro modo e prospetta soluzioni e interventi finanziari e non solo verso i paesi a basso reddito allora tutto questo naturalmente ha bisogno di uno sforzo culturale molto forte molto inedito per cambiare la percezione del concetto di cooperazione internazionale e quindi costruire una sorta di senso comune diverso rispetto a prima le novità sono sostanzialmente tecniche ma anche culturali allora comincio a fare questa domanda alla onorevole Quartapelle lei rappresenta all'interno della commissione estera della camera il partito di un partito di governo ecco cosa sta facendo cosa sta succedendo se esiste un dibattito all'interno rispetto a questa prospettiva cioè far diventare conveniente la cooperazione è un concetto complicato da far accettare in un momento di crisi come questo ma secondo me non va ripensata la cooperazione anzi in occasione della pandemia i cittadini italiani si sono resi conto di quanto sia importante concetti come la solidarietà e di quanto sia anche importante avere avuto delle relazioni internazionali basate proprio sul principio della cooperazione della collaborazione tra stati e tra popoli l'italia ha ricevuto moltissima solidarietà internazionale abbiamo ricevuto aiuti da 35 paesi abbiamo ricevuto aiuti materiali da cittadini di tantissimi paesi che si sono uniti alle raccolte fondi promosse da enti istituzionali da privati cittadini italiani da associazioni italiane e quindi secondo me non è un momento in cui ripensare alla cooperazione ma in cui ribadire quello che noi diciamo sempre cioè che la solidarietà non si consuma anzi che più pratichi la solidarietà più si genera solidarietà proprio nel momento in cui l'italia ha ricevuto aiuti è giusto che l'italia aiuti anche altri paesi che in questo momento si trovano in una situazione più complicata penso per esempio alla situazione in cui si trovano tanti paesi dell'america latina dove oggi il virus sta agendo sostanzialmente indisturbato proprio l'italia deve farsi motore di una nuova iniziativa di solidarietà internazionale rafforzando e sostenendo quello che già c'è fatto dal nostro paese francesco invece la tua il tuo punto d'osservazione iniziale che aveva in qualche modo avviato questo dibattito il suggerimento che tu ci avevi dato era proprio diverso cioè ti avevi detto che invece va ripensata la cooperazione ma che termini allora cerchiamo di trovare un punto d'equilibrio tra queste due posizioni sì in realtà va ripensata la cooperazione fuori della solita metafora che la crisi dà rischi ma anche opportunità noi crediamo che in realtà bisogna provare a ragionare in modo diverso rispetto al passato noi non stiamo parlando solamente del bisogna aumentare le risorse per l'aiuto pubblico allo sviluppo noi stiamo ragionando e l'abbiamo fatto la scorsa settimana con un rapporto che si chiama tutto l'aiuto necessario whatever it takes ricordate ricordiamo draghi quanto fu importante per l'europa beh noi dobbiamo pensare in termini di manovra rispetto al mondo una manovra integrata nel breve termine per gestire la pandemia in quei paesi più fragili ma che ormai sono anche parte dell'economia globale nel medio termine per riuscire a rimuovere alcune cause strutturali allargando anche a loro le tutele sociali noi diciamo anche facendo una nuova architettura finanziaria internazionale il problema della cancellazione del debito che rischia di strangolarli e di impedirgli risposte del breve nel medio periodo è essenziale ma poi ragioniamo anche in termini di interessi cioè oltre alla solidarietà che per noi un valore essenziale ragioniamo in termini di interessi l'ho detto anche bene il segretario generale delle nazioni unite butierre qualche settimana fa tutti i nostri sforzi investimenti per la ricerca del vaccino eccetera se non ci occupiamo anche di quest'altra parte del mondo rischiano di essere vanificati perché la pandemia può viaggiare nuovamente da sud al nord e ricostringere per esempio noi che siamo stati i primi e più colpiti sull'asse cina ma soprattutto e lo stiamo vedendo no italia europa stati uniti di ritornare indietro o di ritornare indietro in termini di rischi pandemici rischi sanitari ma anche di rischi economici rischiamo un altro lockdown allora siccome prevenire è meglio che curare e curare non vuol dire solamente l'emergenza sanitaria vuol dire anche intervenire per rimuovere alcune case strutturali guardate che in africa il covid è uno dei problemi ma poi c'è l'ebola poi c'è la malaria l'aids eccetera allora o si fa adesso con le risorse la determinazione politica necessaria o si perde un'occasione unica probabilmente non è facile bisogna fare quel salto di consapevolezza che un futuro comune vuol dire ovviamente principi ma anche interessi comuni sì questo d'accordo ma qui stiamo parlando di questo ce lo diciamo sempre noi siamo come usano l'espressione che francesco pedrelli ha usato l'altro giorno al telefono con me cioè siamo dei convertiti che ormai non ci abbiamo bisogno neanche di dirci delle cose lo sappiamo che le cose stanno così il terminale però di tutto questo deve essere il governo e a maggior ragione il parlamento con tutte le sue articolazioni tutte le sue dinamiche all'interno di una maggioranza che deve esprimere concetti come quelli che i convertiti stanno esprimendo e quindi la domanda rimbalza automaticamente lì a quarta pelle il suo il suo ruolo la sua postazione diciamo permette uno al di là delle cose che tutti noi ci diciamo permette in realtà una praticabilità di questa che quella che Petrelli chiama la manovra rivolta verso il mondo del del sottosviluppo ma io credo sì c'è una consapevolezza politica una una con la gente con i i i deputati che che si sentono tirare la giacchetta dai loro collegi elettorali da tutte le parti che sanno disoccupazioni gente che si che 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 insomma è allo sbando industrie aziende che chiudono artigianati che che vanno insomma intere attività economiche che falliscono io credo di sì eh per questo contestavo diciamo la la sua domanda precedente Francesco Petrelli faceva riferimento al rapporto di Oxfam tutto l'aiuto possibile eh io credo che quel rapporto spieghi bene una cosa che per i convertiti non è nuova e cioè che noi viviamo in un mondo dove siamo sempre di più tutti quanti collegati e che però è una cosa che invece per il grande pubblico eh non era scontata come dice lei eh si pensa sempre che se dai gli aiuti ai paesi in via di sviluppo togli risorse ai cassa integrati o alle emergenze italiane io credo invece ed è per questo che contestavo la domanda prima eh io credo invece che la pandemia ci abbia spiegato meglio di qualsiasi parola che noi abbiamo potuto usare quanto siamo collegati cioè se in Cina si sviluppa un focolaio di una epidemia eh questa epidemia arriva nel giro di qualche mese pochi mesi in occidente e blocca tutta l'economia mondiale allora questo è il segno di come siamo tutti collegati io eh diciamo condivido lo spirito eh del rapporto di Oxfam che appunto non non chiede solo maggiori risorse ma utilizzate in un modo diverso noi qui in Italia stiamo affrontando eh quotidianamente il tema del lavoro dopo dopo il lockdown dopo la quarantena un lavoro appunto che è scarso un lavoro che rischia di penalizzare soprattutto alcuni strati della popolazione penso alle donne penso ai giovani questo problema non è solo un problema italiano è un problema di tutto il mondo e così come per l'epidemia o noi affrontiamo insieme il problema oppure eh gli squilibri continueranno a girare cioè non si può curare la pandemia solo in Italia o solo a One ma bisogna curarla insieme ed è per questo che eh il nostro governo e il nostro Parlamento stanno spingendo per un'iniziativa globale di contrasto al virus eh noi non non condividiamo per esempio quello che dice il presidente Trump presidente Trump pensa che si scopre il vaccino lo somministra tutti gli americani e il problema è risolto in America ma non funziona così e le pandemie funzionano che o tutti hanno il vaccino e tutti si vaccinano o non si torna a dove eravamo prima lo stesso modo le conseguenze economiche della crisi o le affrontiamo globalmente come Italia eh tenendo insieme l'asse nord sud come Europa con il piano per il recupero e per la ripresa europeo che è un piano che trasferisce risorse ai luoghi più colpiti inclusa l'Italia o eh queste conseguenze economiche della crisi si sentiranno e quindi serve anche un' iniziativa globale di solidarietà contro la disoccupazione contro gli effetti economici della crisi per questo eh proprio in queste ore stiamo finalizzando gli emendamenti al decreto rilancio mettendo un'attenzione anche sui temi della cooperazione perché sia in Parlamento che fuori secondo me c'è una consapevolezza diversa rispetto a prima di quanto siamo tutti legati dal punto di vista sanitario e dal punto di vista economico questo è un momento eh lo diciamo per tante cose però io credo che dobbiamo davvero cercare di utilizzare bene quello che abbiamo imparato in questi mesi questo è un momento in cui certe cose si vedono di più e in questo momento vediamo di più quanto siamo collegati anche nelle iniziative di solidarietà sì stamattina giusto alla radio a parte che volevo segnalare anche un rapporto della FAO che mi è arrivato poco fa per cui c'è un calo dei prezzi dei generi alimentari eh mai avuto fino ad ora negli ultimi diciassette mesi e per quattro mesi consecutivi c'è un prezzi dei generi alimentari sono scesi nel precipizio questo è dovuto soprattutto alla eh assenza di domanda quindi già questo a livello globale indica una situazione veramente eh drammatica ma le dicevo stamattina alla radio non so bene che ho sentito l'ascoltavo distrattamente ma che insomma una persona qualificata diceva che poi a te in questo momento tutti i ministeri eh del governo italiano chiedono soldi per per tamponare e arrivare a a mettere mano alla crisi economica che del post pandemia ma è l'unico che non chiede soldi è il ministero degli esteri ora questo forse era una battuta ed era una però se così fosse la dice lunga su come nel diciamo nel panorama politico italiano viene concezione viene vista e concepita eh il riconcepito l'aiuto pubblico allo sviluppo è così eh oppure è soltanto una battuta così di di un di un oppositore al governo diciamo così ma in realtà il ministero degli esteri diciamo io non è che sono eh al governo sono in parlamento abbiamo un ruolo diverso il ministero degli esteri in queste settimane ha chiesto molte risorse anche solo per il made in Italy che è un altro argomento eh che tiene dentro quella dimensione di quanto l'Italia è collegata al mondo eh noi in parlamento stiamo chiedendo una cosa eh e credo che insomma sarà una delle cose che come partito democratico porteremo avanti durante il decreto rilancio le risorse non spese eh per l'accoglienza dei migranti non è che vanno da un'altra parte fanno parte di un filone eh di iniziative sul tema della solidarietà se arrivano meno che migranti non è vero che nei paesi di provenienza e di transito le condizioni sono migliorate quindi le risorse che sono state risparmiate in questi mesi anche nel duemiladiciannove non collegate alla pandemia ma collegate a dei flussi migratori diversi quelle risorse devono essere spese per affrontare il problema alla radice e quindi per aumentare le la la cooperazione diciamo la quota di aiuti che noi diamo alla cooperazione internazionale lo facciamo perché questo è un momento in cui globalmente in Italia si deve secondo me andare alla radice di tanti problemi eh sia di problemi italiani che di problemi internazionali e sul tema della cooperazione noi non possiamo essere da meno quindi non fermiamoci alla superficie le cose sono tutte un po' bloccate ma proprio perché i flussi movimenti di persone sono un po' bloccati anche legati alla pandemia utilizziamo le risorse il tempo a nostra disposizione per affrontare alla radice le questioni quindi a livello parlamentare noi chiederemo più soldi e mi auguro che insomma questa richiesta venga venga accettata Francesco volevi dire qualcosa? Volevo fare un'osservazione e una domanda all'onorevole Quartapelle l'osservazione proprio perché sono d'accordo che l'economia è integrata e quindi se viene colpita una parte le conseguenze le subiamo tutti per questo c'è bisogno della manovra una manovra integrata e coerente per questo non voglio parlare di Africa guardate che l'Africa è stata in lockdown l'abbiamo già detto e lì vuol dire che da un giorno all'altro centinaia di milioni di persone non riescono più a mettere il pranzo con la scena assieme ma vorrei parlare di Stati Uniti allora per dire anche a chi è preoccupato del proprio destino qui in Italia e in Europa guardiamo gli Stati Uniti lì certo c'è il problema storico del razzismo che sta producendo quello che sta producendo ma lì c'è un'altra questione che si pone in forme diverse in Africa in Europa e negli Stati Uniti che è il secondo virus quello della diseguaglianza la manovra che utilizza anche l'aiuto pubblico allo sviluppo come uno degli strumenti deve utilizzare però tutti gli strumenti per riuscire a produrre e combattere il secondo virus della diseguaglianza la domanda sono d'accordo dopodiché però i dati denotano una incoerenza l'aiuto pubblico allo sviluppo italiano è per il secondo anno consecutivo in calo nel 17 eravamo allo 0 30 aiuto pubblico ricchezza nazionale quest'anno secondo i dati dell'Ox sul 2019 siamo allo 0 24 c'è un problema di interlocuzione per cui in realtà sembra che un pezzo di sistema la società civile ma anche altri attori economici abbiamo avuto grandi difficoltà di interlocuzione con il ministero degli esteri siamo stati poco sentiti in questa crisi il consiglio nazionale della cooperazione previsto per legge non si riuscì da due anni allora le risorse calano c'è una difficoltà di costruire un dialogo che metta in moto il sistema Italia perché esiste anche un sistema Italia della cooperazione che vuol dire interessi oltre che principi e valori cioè io voglio chiedere e perché sono preoccupato perché il mio timore è che qui non c'è una strategia noi chiediamo alcune risorse addizionali ma intanto le risorse che sono già state stanziate nella legge di bilancio a struttura costante quelle che già ci sono qual è la strategia quali sono le priorità o le nuove priorità rispetto alla crisi covid ci pare che il la risposta del governo italiano e in particolare ma non solo del ministero degli affari esteri sia carente da questo punto di vista la Francia pure con le stesse risorse ha già messo in piedi un proprio sistema ha premiato la società civile ha coinvolto anche gli attori economici legando anche alcune forme di internazionalizzazione economica ecco proprio perché l'analisi è giusta che faceva l'onorevole Quartapelle chiediamo una risposta più strategica che ridifinisca priorità e che coinvolga il sistema questo è il punto io su questo diciamo siccome siamo ospitati da Repubblica credo che sia interessante per Repubblica poi sentire sulla strategia degli aiuti allo sviluppo anche chi ne ha la diretta responsabilità politica cioè la viceministra Emanuele Adel Re nel senso che il Parlamento sono tre anni che chiede una strategia e che non la vede indipendentemente dal colore del governo diciamo dal 2018 l'Italia purtroppo non ha una strategia l'abbiamo richiesta io credo che in questa strategia se la dovessi fare io metterei due cose uno una cooperazione sanitaria rafforzata l'Italia è un paese che in ambito sanitario è molto autorevole in ambito sanitario globale molto autorevole ha proposto più volte più iniziative sanitarie multilaterali o bilaterali per esempio il fondo globale per la lotta all'AIDS e la malaria è stato varato in Italia al al G7 o G8 G7 di Genova del 2001 quindi ci sono delle insomma dei pregressi che danno titolarità all'Italia di fare delle proposte di essere ascoltata l'Italia nel 2021 sarà la presidenza del G20 quindi ha anche un palco da cui esporre iniziative di cooperazione sanitaria in ambito globale eppure in questi mesi di quarantena l'Italia in alcune zone di conflitto penso per esempio al Kosovo e alla Serbia ha promosso iniziative di dialogo a tre per affrontare la pandemia anche dove c'erano appunto delle minoranze con cui si faceva fatica a gestire le regole della quarantena quindi sappiamo farlo lo abbiamo fatto in passato possiamo proporlo nel futuro e credo che sul tema della cooperazione sanitaria l'Italia possa fare dire e proporre molto e coinvolgere molti altri partner. Il secondo punto è il tema appunto disuguaglianze e lavoro che è un argomento diciamo sul quale non è che abbiamo da insegnare abbiamo da imparare ma è un argomento che noi a livello internazionale dobbiamo porre al centro delle iniziative di cooperazione. Ci sono varie idee io metterei queste due cose come priorità proprio perché il mondo è cambiato e proprio perché diciamo questa crisi ci offre l'opportunità da un lato di fare delle proposte e dall'altro lato di porci sullo stesso piano di paesi che stanno affrontando problemi simili ai nostri anche in contesti molto diversi. bene allora niente a questo punto io chiuderei la nostra conversazione e con l'auspicio che appunto come diceva l'onorevole Quartapelle certe cose oggi si vedono di più rispetto a prima chiudere con la speranza che a vederle eh di più e vederle meglio siano in molti più di quanti non fossero prima e quindi che gli auspici e gli stimoli che vengono dal Parlamento eh e dalla da la società civile raggiungano certi i risultati che tutti i convertiti come noi auspicalo. Bene allora ringrazio prima di tutto eh Francesco Petrelli e soprattutto la dottorevole Quartapelle che l'abbiamo distolta dai suoi impegni parlamentari per questa conversazione. E a tutti coloro che ci hanno seguito un grazie e a presto. Grazie a voi. Grazie. Grazie.